ciao ragazzi sono ninja e per il giudice di boost ass perché faremo se meno livello 9 ragazzi io non me l'aspettavo veramente di fare lui per oggi mi è venuta sta cosa che di voler fare lui non so perché ragazzi non me lo chiedete nemmeno prima di falla 9 vediamo prima le stop power di solito prima non miglioravamo a 9 ma prima le stop power invece oggi è il contrario dai cambiamo un po e allora germogli potenziati ogni 5,0 il germoglio espressivo avrà un raggio di espressione maggiore va bene se meno attivo uno scudo che lo protegge parzialmente da tutti i danni appunto a patto di rimanere nici spugli ah beh conveniente molto meglio la 2 vabbè perché perché raggio di azione bruno vabbè ma non ha senso comunque semino livello 8 potenziato livello 8 semino livello 9 fatto andiamo subito nel club a scriverglielo ecco stavolta ragazzi avevo voglia di fare una raffagemme che non facevo molto spesso mi sono messo la seconda star perché ovviamente la migliore come ho già detto prima abbiamo già ucciso in pratica tutti tranne quello del primo vabbè quella pellice ha disintegrato voglio fare che non passano ma ormai era passata la raffagemme e vabbè ma così no non ha senso ecco ragazzi ho preso 8 gemme metto il muretto lì vabbè no ma chi è che mi ucciso bea dai no ma è che per favore non fare cavolate gg ecco no arriva lei subito uccisa disintegrata anzi diciamo oggi le gemme se le prese tutte dai no ma è spero era meglio se le prendevo io perché di bot non è che mi fido molto muretto tattico anche se forse era meglio non metterlo lì attenzione ecco vabbè questa vinta gg per noi bene ragazzi che dire se vogliamo il nuovo evento valli vincitori bella beh il video finisce qui like iscrizione e campanella e al prossimo video ciao 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 ciao